Alcune cose sull'andamento dei nostri lavori, saremo un po' attenti ai tempi degli interventi, vorremmo fare interventi fra i 5 e i 7 minuti anche per permettere a più amici e compagni possibili di intervenire, vorremmo dare anche la parola a Gianni intorno alle 16 oggi pomeriggio, poi se ci... qualcosa la devi dire anche alla fine, mi dispiace, abbiamo deciso così, e quindi mi scuso anticipatamente, abbiamo moltissime richieste di intervento, cercheremo di farne svolgere il più possibile, però insomma tenendo questa tempistica. Poi come si vede dalle presenze, di cui vogliamo ringraziarvi molto, abbiamo fatto bene a cambiare sala, vi vorrei segnalare però che l'iniziativa è interamente autofinanziata, e che quindi qui fuori trovate dei cesti dove poter sottoscrivere ai colleghi parlamentari, dico bene che ognuno sottoscriva secondo le proprie possibilità, diciamo così.